Gentili telespettatori, buona giornata. I controlli del fisco italiano saranno sempre più stretti, sempre più serrati, adesso utilizzando l'intelligenza artificiale. Si parla da tempo di nuove tecnologie informatiche per la lotta all'evasione fiscale. Controlli sempre più invasivi per individuare li chiamano i soggetti a rischio, cioè quelli che potrebbero essere propensi a non pagare, perché hanno individuato delle caratteristiche. Quello lì ha la faccia da uno che non paga o che potrebbe anche non pagare le tasse. Le caratteristiche dell'evasore fiscale, quali saranno questi soggetti a rischio? Magari quelli su Facebook si fanno vedere in Ferrari e poi sono nulla tenenti? Probabilmente sono tanti fattori che messi insieme diventano delle persone a rischio prima del controllo, dopo il controllo diventano degli evasori fiscali, magari totali. Così annunciavano da mesi lo scendere in campo nella cosiddetta lotta all'evasione fiscale, con l'intelligenza artificiale, con algoritmi elaborati ad hoc per tale scopo. Nuove tecnologie come il machine learning, text meaning e l'analisi delle relazioni. Arriveranno anche delle figure professionali specializzate nell'analisi dei dati, come informatici, ingegneri ed esperti di economia. Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha spiegato che ci troviamo di fronte ad un'ormai prossima innovazione dei controlli, come richiesto dall'Europa. All'interno del progetto si trovano tantissime diciture informatiche e non lasciano dubbi sul futuro. La tecnologia serve per controllare, verranno verificati acquisti e movimenti di denaro al fine di scoprire il reale tenore di vita del cittadino e individuare in questo modo i presunti evasori. E se tu devi pagare sempre con la carta di credito, col bancomat e non puoi pagare in contanti certe cifre, come li paghi? Se quello non accetta il contante perché dice non posso? Ti vanno a vedere che cosa compri, tu dichiari che hai il reddito di cittadinanza e poi spendi 3.000 euro al mese col bancomat, ovviamente c'è qualcosa che non va. Ovviamente stai truffando lo Stato, se spendi 3.000 e te ne entrano 700, ecco, se te ne entrano 700 e ne spendi 1.200, anche lì c'è qualcosa che non va. Sapete quelli che hanno il reddito di cittadinanza e poi hanno il lavoro in nero e tra reddito e lavoro in nero magari portano a casa 1.600, 1.700 e magari ne spendono 1.200 e hanno un reddito da 700, 560 euro. Lo Stato dice che qui è il dato anomalo, qui si individuano gli evasori, tu non puoi spendere più di quello che hai. Anche perché se in banca non hai niente investito, non hai ricevuto eredità, non puoi spendere più di quello che hai. Devi giustificare da dove arrivano quei soldi. Quei soldi che ogni mese spendi in più, da dove arrivano? Insomma, per quanto vengano impiegate definizioni altisonanti, alla fine resta la verità. Si parla di spesometro è il redditometro. Soltanto che sono utilizzati i termini in inglese, tecnologia, eccetera, eccetera, ma è sempre quello. Spesometro. Spendi questo e ti entra quello. Redditometro. Tu hai queste rendite, no? Oppure quelli che affittano le case in nero. Hanno quattro case in nero, prendono 4.000 e ogni mese spendono 2.000 di bancomat. Lo Stato dice come? Tu risulti risulti con quattro case sfitte perché non c'è nessun contratto di affitto e spendi 2.000 al mese. Da dove li prendi che non hai nessun reddito? Risulti un proprietario di case ma senza reddito? Cosa gli rispondete al fisco? Insomma, ma ne siete sicuri? Perché a me non risulta. Tutti i dati saranno analizzati dall'anagrafe tributaria fino ad arrivare agli account social, quello che vi dicevo prima. L'occhio dello Stato guarda anche sui social. Parto in vacanza per una settimana a Tenerife nell'albergo Cippalippa. La finanza va a guardare quanto costa un viaggio nell'albergo Cippalippa e dice ma se tu hai il reddito 300 euro al mese come vai a farti la vacanza lì? Mostri di essere andato al ristorante da 100 euro. Dici ok, non mi risulta il pagamento al ristorante da 100 euro. Come l'hai pagato il ristorante? Se hai un reddito di 300 euro, come ti puoi permettere un ristorante da 100 euro con 300 euro di reddito? Come compri per il resto del mese da mangiare? Insomma, ti mettono sotto torchio con la luce, come gli interrogatori? Rispondi! Ecco, la guardia di finanza investirà 32 milioni di euro in big data e cyber sicurezza con l'obiettivo di creare un'infrastruttura per semplificare le operazioni di analisi dei dati, anche attraverso modelli statistici. Voi sapete che uno degli sport occidentali è quello di ostentare sui social. Tu vai a mangiare per un compleanno, l'importante è fotografare i piatti che stai mangiando e metterli su Facebook. Non il festeggiato, cioè non è importante il compleanno in sé, il compleanno è il mezzo per presumere in rete il piatto che tu hai mangiato al ristorante, oppure il bicchiere con lo sfondo del mare, dice sto mangiando con vista mare. Ecco, perché siamo nella società dell'apparire. Bisogna apparire perché io più appaio sono, più sono, in che senso dice? Più mostrato che dato. Io ostento sui social tutti questi bicchieri, di questi piatti, no? Come l'influencer che prende l'aereo e pubblica la foto sui social. Lei in prima classe. Si fa il selfie in prima classe. Poi si scopre, da uno che la segue, che lei era lì di passaggio, stava andando in bagno, ma era in classe economica. Ma lei doveva far vedere ai seguitori che lei era una da prima classe. Soldi, dinero, pecunia. I canali, anche sui social che vanno di più, sono quelli di persone che ostentano. Alla gente piace vedere il ricco che casa ha, che macchina ha, dove va in vacanza, guarda l'arredamento della casa. Eh sì, questi sono i canali che funzionano, quelli dove il nuovo ricco, il ricco, mostra le sue ricchezze. Quello che fa fatica non interessa a vedere i video di uno che fa fatica, economicamente. A preoccupare il fatto che questa intelligenza artificiale dovrebbe operare addirittura con lo scopo di anticipare eventuali comportamenti fraudolenti, nel senso che tu dici fra un mese parto per la vacanza alle Maldive e ti chiama il fisco e ti dice, ne sei proprio sicuro che vuoi andare alle Maldive? E uno dice, come? In che senso? No perché ci risulta che lei guadagna 700 euro al mese, va alle Maldive, se va alle Maldive poi ci viene a spiegare come ci va, con quali soldi, ci pensi bene. Quindi dovrebbe anticipare i comportamenti fraudolenti. Eh beh, insomma, ecco, io vi ringrazio perché poi dice che tutto questo impianto ha una precisione vicina al 97%. Caspiterina. Arrivederci a tutti e grazie.